e ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale oggi ragazzi siamo in questo nuovo video della serie come vi ho detto degli unboxing vintage e per l'appunto siamo qui con questa nuova collector ovviamente nuova nei miei video della collector per l'appunto come vedete di dead rising 2 la out break edition scusate forse probabilmente preso la telecamera dove abbiamo questo statuina di questo zombie abbastanza passuto tutto sanguinolento e che dire ragazzi andiamo subito ad unbox alla insieme innanzitutto guardiamo un po la scatola un po rovinata ahimè ai suoi anni come tra versione xbox 360 anche se in realtà se non ricordo male qua dentro non c'è il gioco sul lato ragazzi non c'è nulla a parte la scritta pal di qua nemmeno e qua dietro abbiamo tutto il contenuto con le varie lingue per l'appunto come vedete include leggo thaising 2 il dvd bonus con il making of il codice per scaricare il pacchetto sportivo l'action figure e l'opuscolo di tape it or die e andiamo subito ragazzi a celofanare dal cartone la nostra collector e così si presenta senza il nostro cartoncino come vedete la plastica davanti che protegge per l'appunto lo zombie sempre la scritta del drive in due sotto e qua live girls anche se è il nostro amico cicciottone dietro sempre la scritta del drive in due andiamo a vedere per l'appunto un po più nel dettaglio cosa si c'era in questa colletto ovviamente non vi andrò visto il caso di questo colletto visto che l'ho tenuto lo scato non vi andrò a tirar fuori completamente la statuina ma solo quello per l'appunto libero che lo andrò a mostrare abbiamo poi il cartone andiamo a controllare che cosa c'è e abbiamo il fumettino chiamiamolo e il nostro dvd mamma mia dvd bonus questo per l'appunto dvd bonus discs con il nostro cd per l'appunto possiamo già mettere via e questo invece con la sfida del mese di peter dai soprattutto in italiano e qua come fare determinate armi vedete spunto ragazzi se vi serve mostro completamente ripostrete bene tutti spunto in caso di apocalisse zombie visto il covi di chissà cosa potrà arrivare di altro vedete sono già sono cinque in totale quindi una vasta scelta e qua la sfida del mese diamo via anche il the pit or dai e andiamo a vedere un po nel dettaglio il nostro amico zombie devo vedere solo sera no non è protetto quindi teoricamente ve lo posso gustare fuori iniziamo con il copricapo intanto simile ego molto molto carino che potendo sale tu o mettere per l'appunto gli zombie stessa cosa per il cono ma solo da mettere agli zombie non ricordo male e vediamo se il nostro amico ok esce fuori il nostro amico sancio panza come è molto incattivito con i suoi giubinotti a sedere un po di fuori quindi tirate su un po i calzoni tutto sanguinolento con il suo cappellino così col cappellino mi ricorda un mio amico ciao mario se vedrai il video saluta vedremo se starei attento questo quindi è il suo cappellino normale poi abbiamo il cono come vedete per nascondersi o chiamiamola testa lego che anche questa ci sta perfettamente ragazzi molto molto simpatico collector molto particolare molto carina quindi da rising e the diamond così erano belline sono un po particolari mi ricordo però per carità non super spettacolare come tipo quei da sol però belle collector come potete vedere abbastanza simpatico ragazzi direi che abbiamo anche concluso questo video il mio ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e quindi come al solito vi ricordo lasciare un bel mi piace qua sotto a questo video iscrivetevi al canale se ancora lo avete fatto condividere il video con le persone con i vostri amici così anche loro vedranno questo collector di questo unboxing vintage leggere la descrizione con tutti i suggerimenti che vi lascio e noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro video io vi saluto e ciao ciao